quindi uno due tre buonasera a tutti e dalla relazione dell'ottangolo eh abbiamo con noi eh Antonio Monda ehm diciamo eh grande scrittore e soprattutto noto per per la eh per la sua responsabilità di di direttore della festa del cinema di Roma e Luciano Nobili eh deputato di Italia Viva ehm li ospitiamo qui nella relazione dell'ottangolo per parlare per come come evento conclusivo di una settimana in cui abbiamo eh intervistato ehm persone eh del mondo dello spettacolo della performer eh attori teatrali e musicisti eh in particolare diciamo ponendo attenzione su sugli effetti eh del primo eh lockdown e successivamente del DPCM sulla loro vita eh di artisti e sulla ehm in particolare eh eh sul sulla sulla sull'arte in generale sull'arte della musica lo spettacolo in generale ehm queste queste interviste hanno messo in evidenza a alcune cose ehm la riassumo eh invitando poi tutti gli ascoltatori tutti i lettori dell'ottangolo a a visionare le varie eh le clip che abbiamo già pubblicato ma diciamo che eh sono 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 sorte eh alcune alcune domande alcune istanze da parte di queste eh di queste persone che riassumo eh riassumo brevemente diciamo la prima abbastanza comune a tutti è eh e lo stranimento sul perché diciamo ehm è stato subito eh una è stata subita una seconda chiusura quando si è lavorato tanto diciamo nella eh nella fase post eh post lockdown per adeguare strutture per adeguare procedure policy eccetera in maniera tale da da assicurare la massima sicurezza a tutti gli spettatori e come conferma anche diciamo il report dell'Agis il eh il numero di contagiati è eh infinitamente basso rispetto ad altre realtà ehm gli attori eh chiedono anche eh diciamo come mai eh cioè eh come mai non si è tenuto conto diciamo della del lavoro della che è che il lavoro dell'artista dello spettacolo non è esattamente quello di un lavoro di un lavoratore dipendente anche nella nella erogazione del contributo eh sappiamo che ehm il contributo è stato dato a chi aveva raggiunto un certo numero di giornate l'anno precedente eh ma questo diciamo per un attore per un professionista del cinema dello spettacolo eccetera non ha un non ha un valore assoluto in quanto è un lavoro quello che viene distribuito su più anni e può capitare in maniera assolutamente legittima che un anno una una un artista sia completamente fermo e non per questo diciamo deve essere escluso dalla da un contributo anno successivo da un contributo d'emergenza diciamo si è tenuto poi conto ci chiedono del ehm dell'indotto cioè di tutti quelli che sono i sarti gli affittacostumi lavoratori delle luci fotografie di scena su per 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 diciamo il eh il ristoro e aggiungo io aggiungo la relazione all'ottango si è tenuto conto degli spettatori si è tenuto conto delle persone che fluiscono della cultura perché un ristoro economico può essere sicuramente una cosa giusta e e utile per chi lavora ma il il ristoro della della mancanza della cultura eh della mancanza del cinema della mancanza del teatro per quello che è sostanzialmente un anno di buco se vogliamo se vogliamo essere ottimisti eh come come ci verrà restituito e proprio su questo punto diciamo che eh inizio eh questa 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 intervista ad Antonio ad Antonio Monda chiedendogli innanzitutto come eh come impatterà come ha impattato il il primo lockdown e il secondo e la seconda chiusura sulla eh sul cinema eh in particolare perché è l'arte che lui chiaramente eh conosce meglio ma sulla su tutta la su tutta l'area del cinema e del teatro se c'è effettivamente questo un anno perso in questa eh un buco di un anno e come lo recupereremo? Innanzitutto grazie e un saluto a tutti. Eh io parto dalla mia esperienza americana prima di parlare dell'esperienza molto recente della festa del cinema di Roma. Eh ci troviamo in una situazione tragica a livello mondiale questo è inutile dirlo eh anche se eh bisogna ricordare le centinaia di migliaia di morti, milioni di contagiati, eccetera. Il discorso, il dilemma e credo che mi riferisco soprattutto a Luciano Nobili sia salute verso libertà. Ecco eh prima ancora che economia. Io ti dico quello che succede negli Stati Uniti prima di rispondere direttamente. Broadway che sono centinaia di teatri, migliaia e migliaia di dipendenti, senza contare l'indotto, i ristoranti e tutto il resto, è chiuso da quanto sei mesi e sarà chiuso per quasi un altro anno. Broadway, cioè il posto più famoso al mondo dove si fa teatro. Steven Spielberg, il più potente, forse anche più grande regista del mondo, fa un remake di West Side Story e lo sposta di un anno. Doveva uscire, lo so perché ho cercato di portarlo alla festa al cinema, questo Natale uscirà il prossimo Natale. Ammesso che il prossimo Natale sarebbe in condizioni di andare al cinema. Questa è la situazione catastrofica a livello mondiale. Quindi le chiusure di cinema, teatri, altre forme di intrattenimento, per carità straordinarie, della quali sentiamo la mancanza, non sono una questione italiana, sono una questione mondiale. La domanda che bisogna porsi è come facciamo? È più importante stare in sanità, in salute in questo momento oppure ci sono delle scelte discutibili da parte di ogni singolo governo, in particolare del nostro, e qui immagino che Luciano abbia molto da dire. Entro adesso nel merito e poi lascio la parola a lui e a chi vorrà intervenire. Si è non solo perso un anno, ma si è cambiato drasticamente alla fruzione degli spettacoli. Abbiamo visto tutti molte più serie televisive, abbiamo visto più Netflix e tante altre cose. Alcuni film sono passati direttamente sulla piattaforma. Io ho chiuso la festa del cinema quattro cinque giorni fa con Cosa sarà di Francesco Bruni, un film tra l'altro molto riuscito, dove racconta la sua tragica esperienza di ammalato di tumore, dalla quale è fortunatamente uscito. Io per fargli un regalo ho fatto un'eccezione, ho detto eccezionalmente ti consento, vi consentiamo di andare in nelle sale la stessa sera, quella stessa sera le sale sono state chiuse, chissà per quanto tempo. Quindi questa è la situazione generale. Chiudo con un'ultima osservazione. Io sono il primo a voler andare al cinema, a voler andare al teatro, a voler andare a vedere l'opera lirica, a voler vedere tutte queste cose. Io trovo discutibile che ci sia che sia stata fatta da parte del governo una scelta abbastanza assurda, perché i mezzi di trasporto per esempio sono molto più, uso un termine per capirci, contaminanti se mi passate il termine, di quanto lo sia una sala cinematografica col social distancing eccetera eccetera. Su questo faccio una contestazione dura, perché per me è incomprensibile. Detto questo non me la sento di fronte a cifre che continuano ad aumentare, solo nella mia famiglia, ne parlavamo prima, ho delle persone molto a me vicine, due nella mia stretta famiglia contagiate, quindi la situazione è tragica, tragica. Eh si poteva indirizzare meglio alcune indicazioni, però non si può partire se non da questo presupposto. Salute prima ancora di libertà. Grazie Antonio e riprendo quest'ultima cosa che hai detto, sei diciamo stai esprimendo anche il pensiero di tutte le persone che abbiamo intervistato. Eh i trasporti, perché non è stato fatto nulla per adeguare i trasporti? Perché non non si è agito lì e si è si è prevedito probabilmente tagliare qualcosa di che si si riteneva in qualche modo eh superfluo oppure semplicemente diciamo poco importante. Domandiamo a Luciano. Eh Luciano non hai l'audio spento, non so se ecco adesso mi sentite, non l'ho spento per non disturbare ovviamente, ma intanto vabbè quando parla Antonio Monda si ascoltano il giusto silenzio, quindi diciamo io. In giro, grazie. No, oggi oggi consideratemi spettatore per questo tipo due cose, ma poi sono qui per ascoltare. E detto questo, intanto Antonio Monda vabbè merita la gratitudine di tutti noi romani e italiani per due ragioni. La prima da romano perché devo dire ha svolto in questi in questo recente periodo, in questi anni in cui ha avuto la responsabilità e spero che continuerà ad avercela, se ne avrà voglia, un ottimo lavoro eh davvero alla festa del cinema di Roma, peraltro in anni complicati per la città, perché sono anni complicati per la città e in particolare in anni complicati per tutti, perché quest'ultimo eh lo è stato per tutti. Dico anche da italiano perché eh nella alla termine del lockdown e nei mesi in cui abbiamo provato tutti a costruire una ripartenza del paese dal punto di vista economico, sociale, culturale, io devo dire che eh fra le tante attività che sono ripartite anche dal punto di vista culturale, sono partiti festival di teatro, tante occasioni interessanti, eh mi permetto di dire che il segnale che l'Italia ha dato un po' al mondo con la capacità di riuscire a svolgere in perfetta e piena sicurezza, prima la mostra del cinema di Venezia e poi il festival di Roma in un anno in cui per capirci non si è svolto il festival di Canna, cioè stiamo parlando di di una stagione di questo tipo, è stato per l'Italia credo un grande motivo di orgoglio perché si è riusciti con dodicimila difficoltà, con investimenti aggiuntivi, con ricavi e sponsorizzazioni immagino molto minori rispetto a quella degli anni precedenti, si è riusciti a portare a casa in meno. Ecco, si è riusciti a portare a casa in piena sicurezza due appuntamenti che non hanno una ricaduta solo nazionale ma una ricaduta internazionale che hanno fatto bene all'Italia. Eh se la mettiamo come maniera molto ah peraltro ulteriore parentesi approfittate di Antonio che ce l'avete collegato perché è un testimone d'eccezione anche di una partita fondamentale per tutti noi che si sta giocando in quest'ora, scusate se vado fuori tema, ma insomma martedì non si vota, martedì si finisce di votare perché questa mai come questa volta ma potrebbe tenerci una lezione Antonio su questo si è ricorsi tanto al voto per posta e al voto anticipato anche per le ragioni covid però il 3 novembre si finisce di votare negli Stati Uniti e da quella da quelle dall'esito di quelle elezioni eh purtroppo per fortuna avrà una ricaduta che riguarderà tutti noi anche nella gestione della della pandemia per cui se magari dopo c'ha voglia di dirci qualcosa su questo io ne sarei contentissimo eh detto questo se lui la mette in maniera molto tranciante nella nel trade off salute libertà o salute cultura o salute attività economiche o salute persino istruzione è ovvio che tutti noi dobbiamo per forza di cose scegliere salute perché salute significa prima di tutto vita significa protezione dei più fragili e più deboli ripeto cose che sappiamo e sapete a memoria eh la la seconda ondata ci ha trovato in parte impreparati e rischia di essere molto pericolosa eh e quindi è ovvio che di fronte a rischi per la salute si fanno scelte anche molto dolorose e anche impopolari la cosa che io ci tengo a dire sono soltanto sostanzialmente due e sarò rapidissimo eh la prima è che diciamo lo lo dico sentendomi un pezzo di responsabilità perché faccio parte di una forza politica che è in maggioranza di governo quindi non è che punto il dito contro qualcuno lo punto anche contro di me mi prendo un pezzetto di responsabilità perché evidentemente non siamo stati capaci di farci ascoltare a dovere però in questi mesi da maggio quando abbiamo finito il lockdown ad oggi tutti abbiamo un po' sottovalutato la situazione e ci siamo ripetuti una cosa e cioè dobbiamo imparare a convivere con il virus perché al di là delle dell'entusiasmo per i progressi che si fanno col vaccino non se ne parlerà prima del duemila e ventuno inoltrato soprattutto se pensiamo a una a una diffusione dell'uso del vaccino che prima sarà per le realtà più fragili prima che diventa che diventi di massa passeranno mesi e se non anni quindi noi ci siamo detti impariamo a convivere con il virus e dopo sei mesi di questo tentativo di convivenza col virus la soluzione che sappiamo trovare di fronte alla seconda ondata è semplicemente la stessa che abbiamo applicato a febbraio cioè richiudiamo tutto perché non abbiamo alternativa a richiudere tutto questo secondo me interroga tutti poi è ovvio che è ovvio che non penso così la metto in politica visto che so che interesse comune tutti non la metto al punto di dire per eh cambiamo governo o accusiamo questo governo perché non avrebbe alcun senso perché tutti ci troviamo a gestire una realtà assolutamente eccezionale straordinaria imprevista perché peraltro in Italia abbiamo anche il problema che l'opposizione è talmente inadeguata talmente irresponsabile da non da non poter prefigurare nessuna cioè in queste ore noi sento esponenti che dicono l'unità nazionale stringiamoci insieme lavoriamo insieme e poi oggi Salvini ha passato la sua giornata ad accusare Conte la Lamorgese per gli per gli atti di terrorismo in Francia di questo parliamo questi sono gli interlocutori che ci abbiamo per cui non possiamo far altro che tenerci stretta la la realtà di governo che abbiamo contribuito anche in maniera determinante a costruire però dico e la seconda cosa quindi la mia prima mio primo problema è diamine ci siamo tutti presi l'impegno di lavorare per convivere in qualche modo per quanto possibile col virus e devo dire che i cittadini da loro parte l'hanno fatta e anche tante attività economiche culturali perché poi i controlli in parte ci sono stati e non si è trovato un cinema o un teatro che non rispettasse i protocolli o che o che fosse chissà in che modo fonte di contagio secondo punto le scelte vanno prese parlando un linguaggio di verità e quindi a me da molto fastidio che ci siano esponenti di governo che ancora oggi negano la possibilità che magari fra una settimana dovremmo scegliere il lockdown se si parla il linguaggio di verità si dice agli italiani sperimentiamo delle misure non è detto che funzionino se non dovessero funzionare prepariamoci tutti e l'ipotesi potremmo trovarci come in Francia come in Germania a dover scegliere nuovamente una strada più più restrittiva ancora questo secondo me aiuta la condivisione la comprensione delle scelte secondo le scelte cerchiamo di farle sempre ancorate i dati ora Riccardo citava i dati dell'agis che hanno monitorato i 350.000 circa spettatori che sono tornati nelle sali di concerto nei teatri spettacoli dal vivo potremmo parlare anche dei diversi milioni che sono tornati al cinema da giugno a ottobre da maggio ad ottobre ecco di fronte a questo il tema è che quando si chiudono cinema e teatri o quando si chiudono piscine e palestre non c'è qualcuno che viene a dirti li chiudiamo perché sono diventati focolaio perché abbiamo dati che certificano che sono diventati luoghi di di diffusione della pandemia no persino i ministri competenti nello fare queste scelte dolorose dicono no ma il problema non è i ristoranti a cena piuttosto che a pranzo che il problema non è chi va al cinema o chi va a teatro perché lì le regole sono state rispettate il problema è la mobilità è dover limitare al massimo la mobilità dei cittadini perché sul trasporto pubblico non abbiamo fatto scelte efficaci e questo è un problema enorme noi e guardate a me questo ruolo della Cassandra che ogni tanto negli taglia di via ci prendiamo è fastidiosissimo perché nella vita lo sapete non c'è niente di peggio di quello che ti dice io te l'avevo detto no nella vita quando ci capita di fare un errore c'è sempre l'amico che viene e ci dice ma io te l'avevo detto che quella cosa non la dovevi fare che quella persona non la dovevi frequentare permette molti di azione dopo su questo e quanto lo detestiamo quell'amico che ci viene a dire io trago niente lo detestiamo perché è un ruolo assolutamente antipaglio quindi a me non piace io preferirei che ci ascoltassero un pochino prima però noi sono mesi io l'ho ricordato al premier contro del question time mercoledì o giovedì l'ho ricordato in maniera ancora più pressante poi mi dispiace perché non voglio puntare il lito contro nessuno con la ministra dei Micheli però diami e noi sono mesi che diciamo il governo c'è bisogno di intervenire sul tpl è la principale fonte di contagio non possiamo dire non basta dire abbiamo le stime dell'INAIL che ci dicono che viene rispettata la la capienza dell'ottanta per cento perché basta scendere in strada uscire ogni tanto dai palazzi prendere la metropolitana o il bus o i treni regionali all'ora di punta e vedere che c'erano gli assembramenti assolutamente incompatibili con qualsiasi delle precauzioni che abbiamo chiesto a ristoratori gestori di cinema gestori di piscina gestori di presto e questo non è inaccettabile è successo per mille ragioni abbiamo assistito rennesimo scaricabarile istituzionale colpa delle regioni e colpa dei comuni e colpa del governo io mi limito a dire che avere stanziato come governo come maggioranza di cui maggior parte trecento milioni per gli interventi sul trasporto pubblico locale di tutta italia a fronte di cento miliardi di scostamento di bilancio che abbiamo previsto vuol dire aver destinato a questo intervento una quota molto bassa di denaro francamente penso che il tpl meritasse interventi ben più strutturali poi si sommano e la e la chiudo perché ho parlato fin troppo si sommano anche a volte resistenze ideologiche perché così tanto siamo tra amici ce lo possiamo dire se le regioni e comuni non hanno non ci hanno dato ascolto e il governo non ha pressato perché ci disse l'ascolto ad esempio sulla possibilità di utilizzare in queste settimane in questi mesi le centinaia e le migliaia di mezzi del trasporto turistico bloccate nei depositi pensate a flix bus o pensate alle tante aziende locali e regionali che fanno le città scolastiche che fanno i viaggi per 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 i centri anziani che fanno il turismo ci sono migliaia di di strutture anche aziende piccole locali che fanno questo tipo di lavoro noi abbiamo detto ma invece di pagare la cassa integrazione ai dipendenti e tenere i mezzi fermi eh prendiamoli utilizziamoli come supporto al trasporto pubblico locale in questi mesi della pandemia se non si è fatto non è solo perché non si sono stanziate abbastanza risorse ma anche perché c'è una esistenza ideologica perché qualcuno ha pensato ma se oggi facciamo entrare un po' di privati nella gestione del trasporto pubblico locale poi magari domani ci ritroviamo e non ci abbiamo più il monopolio pubblico sul trasporto pubblico locale è successo anche questo è bene che ce lo diciamo con franchezza tanto qui parliamo con franchezza detto questo l'impegno adesso eh visto che andremo verso le restrizioni ancora più dure di quelle di teatria cinema è che quel comparto in maniera seria ci abbia tutto il sostegno possibile eh i mille euro che adesso sono previsti e io ho incontrato visto che che Riccardo così poi dico tutto in questo intervento immagino che volesse parlare eh in questi giorni anche gli attori le attrici che stanno lavorando alla la proposta di legge degli registro degli attori e delle attrici da Monica Guerritore a tanti altri eh ed è stato un piacere incontrarli e cercheremo di aiutarli anche per evitare che poi quel bonus per i lavoratori dello spettacolo finisca magari in alcune tasche sbagliate e non in tante tasche che che lo meriterebbero che ne avrebbero bisogno però dobbiamo fare in modo il prima possibile di uscirne e il prima possibile di di consentire a tutto questo comparto che si era rimesso in piedi pensate alle produzioni cinematografiche che grazie a Dio erano ripartite e che speriamo che almeno quel punto di vista si possa andare avanti anche perché il dolore di alcuni autori o di alcuni artisti che mi amo adesso eh Antonio citava Francesco Bruni che che è anche un caro amico oltre che un regista che che amo molto che si è trovato con a dover aspettare alcuni mesi per l'uscita del film finalmente avere il scatto di vederlo finalmente uscire anche col col con l'onore che Antonio gli ha fatto di fargli chiudere il festival del cinema la festa del cinema di Roma e poi trovarselo chiuso il giorno l'uscita in sala immagino che sia un dolore però guardate questo dello spettacolo della cultura dell'arte è un comparto più di ogni altro che non riguarda solo i cinque seicentomila persone in Italia che ci lavorano è veramente una cosa che ha a che fare con la vita di tutti noi e che è prezioso soprattutto in un momento difficile come questo mi taccio grazie Luciano tu hai anticipato anche la domanda che volevo farti sull'albo del dei professionisti quindi passo la parola a Nerina che mi aveva chiesto lo spaggio per una domanda e poi magari chiudiamo con Antonio sulle lezioni americane che effettivamente parlo molto volentieri scusami Nerina se ti interrompo sono felicissimo di parlare purtroppo fra un quarto d'ora devo devo andare cinque minuti meno meno di un quarto d'ora per evitare di essere scortese al provviso no no tranquillo cinque minuti e chiudiamo perché anche Luciano ha un impegno subito dopo che niente vi ringraziamo per la disponibilità grande che avete dato allora io velocemente due cose una una più che una domanda Luciano ma so che Italia vive tutta impegnata in questo senso a sottrarre cerchiamo di sottrarre le persone a questo sentimento di precarietà continua cioè uno dei drammi che stiamo vivendo sono le top eh che si mettono per venti giorni per trenta giorni quando in realtà questa è una situazione che ci porteremo avanti a lungo e quindi abbiamo bisogno di visioni di lungo termine i parlamentari di Televiva questa cosa in questi giorni l'hanno detta in tutte le lingue però veramente cerchiamo di farne una priorità perché io credo che la la fragilità derivi molto anche dal dover ridefinire continuamente lo spazio esistenziale quindi la richiesta dell'ottangolo alla politica credo che vada in questo senso invece ad Antonio ehm volevo eh proporre una cosa concreta allora l'altro bacino grande di intervento tuo culturale sono le conversazioni che sono un evento che ha oramai una storia consolidata eh che collega realtà anche culturali molto diverse eh come di attuazione in più nazioni ospita delle voci interessantissime dato che è molto probabilmente tanto avverrà da remoto e dato che le conversazioni nascono per una contaminazione forte di tipo proprio culturale sentimentale no? Cioè c'è un contenuto che non è un contenuto da accademia è un contenuto molto spesso esattamente fra filosofico ed esistenziale noi stiamo assistendo a delle cose gravissime cito l'articolo di Chino che è stato veramente credo il punto più basso di espressione mi esprimo a livello assolutamente personale e proponendo sul foglio eh una sorta di separazione netta fra anziani e giovani no? A tutela degli anziani quindi andando verso delle dimensioni esistenziali paradossali io credo che la libertà eh sia un fatto fondamentale quanto la salute un anziano qui viene negato un bar sotto casa è un anziano che muore un pochino di qualcos'altro no? Che non allora le conversazioni cosa possono fare contro questa deprivazione sentimentale? Allora innanzitutto mi permetti fare un piccolo passo indietro perché non vorrei essere apparso un po' manicheo quando parlavo di libertà e salute e ringrazio anzi Luciano di aver elaborato un po' il principio che avevo lanciato lì forse con troppa con come dire un colpo d'accetta ma quello che cercavo di dire è che ci abbiamo lo vedo basta vedere quello che succede in ogni parte del mondo a un inasprimento a un indurimento di questa situazione temiamo un completo lockdown in tanti paesi forse anche nel nostro quindi mi risultano incomprensibili da un lato alcune alcune scelte governative questo sì e questo no citavo i viaggi insomma gli spostamenti e parallelamente dicevo è un dramma quello che succede alla cultura hai ragione Nerina hai ragione certamente Luciano è una tragedia non solo da un punto di vista economico cioè i lavoratori dello spettacolo ma soprattutto per la linfa vitale che è la cultura per tutti noi temo che in questo momento sia inevitabile questo è il punto anche se le cifre che avete offerto io non le conoscevo le ho lette ieri 350 mila se non sbaglio con una sola persona contagiata sono abbastanza parlano da sé quindi rimane incomprensibile che si chiuda lì e si tengono aperti i treni o comunque si possa consentire posso anche aggiungere io credo che il nostro paese sia passato con troppa facilità e senza soluzione di continuità dal lockdown completo alle discoteche e alle spiagge e questo forse l'abbiamo pagato lo stiamo continuando a pagare mi spiegheranno perché la lobby delle discoteche e dei bagnetti non so come chiamarlo degli esercenti delle come si chiama insomma delle spiagge sia così potente da poter ottenere quello ma lo dico non proprio teoricamente non lo so non lo capisco questo per fare una piccola premessa poi le conversazioni un festival che nasce 15 anni fa anzi sta arrivando il sedicesimo anno nel lockdown ci siamo inventati una cosa forse ne siete tutti vittima abbiamo perché sia nella mia broadcast list noi abbiamo chiesto a 170 grandi personalità all'inizio erano solo scrittori infatti il progetto si chiama writers on writers ma poi si sono aggiunti registi attori attrici eccetera eccetera di leggere un brano letterario credo che sia uno degli eventi culturali non voglio dire più interessanti perché sembra elogiarsi comunque che si nota in questo momento anche perché fatto con due lire e questa è una cosa che lo dico non per vantarmi ma come esempio cioè si possono fare delle volte in situazioni di costrizione delle cose anche che funzionano e soprattutto in consolidarietà cioè tutti hanno voluto partecipare giocare perché siamo sempre anti accademici in tutto quello che facciamo cosa facciamo l'anno prossimo cerchiamo di avere il festival il più possibile normalmente anche quest'anno l'abbiamo avuto il più possibile normalmente sì abbiamo perso gli eventi di maggio giugno a new york però abbiamo fatto capricomo ogni anno anche se ad agosto e non solo a giugno e l'abbiamo fatto ovviamente con solo con ospiti italiani perché era impossibile far vedere gli ospiti già invitati dall'america l'inghilterra e la francia spero di aver risposto su questo siccome mi avete anticipato una cosa sugli stati uniti mi prendo due minuti ancora per dirvi qualcosa l'ho un po anticipato luciano non ti vengono a prendere nei primi minuti abbiamo chiacchierato un po di questo ti interrompo per dire che mi devi una citazione mi hai promesso una citazione hai ragione te la do subito e del gatto pardo c'è un certo punto che tomasi di lampedusa dice di del principe salino salina cadde nella più umana delle tentazioni quelle di dire io l'avevo detto dunque ritornando invece a noi io stamattina sono andato a fare sono arrivato tre giorni fa quindi mi sveglio prestissimo alle cinque le quattro l'early vote che si può fare dalle sette del mattino sapete tutti cosa è l'early vote non ve lo devo spiegare è un boom mostruoso pare un'ottantina di milioni di persone hanno già votato è più del doppio delle altre elezioni è un segnale buono per chi è di fede democratica perché gran parte sono iscritti democratici ebbene sono andato e me ne sono ritornato a casa perché ho sbagliato il seggio perché nell'early vote non si va nel seggio regolare quello vicino casa dove si va sempre che poi una scuola come come quasi sempre nel mio caso ma si deve andare un posto lontanissimo cioè rinunciato voterò come tutti come tutti come gran parte dei cittadini martedì cambia il mondo martedì comunque vada io mi auguro nella direzione giusta mi auguro che sia un momento di liberazione da questo personaggio agghiacciante che governa questo paese da quattro anni al quale tuttavia vanno riconosciute alcune cose un intuito politico in dubbio un suo talento in qualche modo una sua abilità il fatto di aver sconfitto prima il suo partito e poi l'altro partito eh e un altro dato eh aver messo al centro dell'attenzione il conflitto reale reale eh con la Cina detto questo l'ha fatto nella maniera più barbara più volgare più violenta più inaccettabile più intollerabile più pericolosa possibile non sto facendogliele oggi sto solo dicendo che lui ha intuito una cosa e poi l'ha gestita malissimo perché l'uomo è quello che è vincerà io non credo sono cautamente ottimista diciamo che volendo fare una percentuale credo al 60 per cento è favorito Biden al 40 per cento eh Trump che significa che ha delle chance mi sembra un animale ferito un animale in gabbia che sta cercando qualunque cosa per per poter non accettare un verdetto credo che eh se eh nei nelle primissime ore cioè tra le nove e le dieci undici gli stati dell'est che sono quasi tutti quelli in bilico quindi Florida Ohio Michigan Wisconsin e Pennsylvania danno la vittoria chiara non too close to call cioè chiara almeno al 55 per cento in su a Biden l'elezione si chiude lì se non è così teme temiamo il peggio perché lui si arroccherà tenterà di procrastinare o forse qualcosa di peggio eh perché una una svolta epocale perché eh l'America che si chiude che erge i muri invece di 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 eh mettere i ponti come nel suo codice genetico è un'America non solo nella quale io non mi sento più a casa ma non si sente più a casa nessuno tranne i sui bani nel codice genetico di questo paese c'è quello che è scritto nella sotto la statua della libertà la famosa poesia di Emma Lazarus la quale statua parla in prima persona e dice venite da me voi derelitti voi poveri voi miserabili e questo è l'America questo è il sogno americano eh è l'opposto di quello che ha fatto Trump lui che vuole che dice di far l'America grande di nuovo la sta tradendo completamente ho corso un po' e forse non stato un po' schematico la chiusura a Luciano dai no ma io adesso non ho nessun titolo per chiudere rispondo le tue sollecitazioni che mi sono arrivate e poi salutiamo Antonio che più di me c'ha cose importanti da svolgere no invece no volevo dirvi solo due cose rapidamente su quello che mi hai detto sono d'accordo con alcune delle cose che diceva Nerina eh sulla situazione che ci troviamo a vivere e sulle sue ricadute sociali ne dico una per tutte io sono uno tendenzialmente molto pragmatico quindi che che sceglie le soluzioni senza eh troppi paraocchi ideologici o senza troppi schematismi eh di di altro genere devo dire che però sono totalmente d'accordo con lei in questo caso nel senso che ho avuto modo di discuterne anche con alcuni colleghi e amici non non capirei e non attuerei mai una sorta di lockdown eh per anagrafe nel senso che primo ritengo che non ce lo possiamo politicamente permettere grazie Presidente Macron parlando ai francesi l'altra sera una lingua di grande onestà ha messo in luce quali erano le possibilità che la Francia poteva scegliere lo ha detto possiamo scegliere la via che hanno scelto altri di puntare sull'immunità di greggio con i risultati che anche la sua Svezia sta 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 purtroppo raccontando possiamo scegliere un lockdown imparità intendiamoci è un ragionamento che ha delle basi scientifici che non è un ragionamento campato in aria ma è un ragionamento irrealizzabile intanto perché obiettivamente chiunque abbia potuto farlo con gli anziani che ha cari vicino a sé li ha il più possibile protetti e in qualche modo chiusi in casa io mia mamma eh a una certa età 85 anni la tengo chiusa in casa e cerco di farlo uccidere il meno possibile quindi è una precauzione che le le persone in una certa età hanno già svolto ma al di là del fatto che come ha detto Macron quella scelta sarebbe eticamente inaccettabile io sottoscrivo quello che ha detto il presidente francese è semplicemente irrealizzabile dobbiamo dircelo con grande franchezza perché intanto perché la maggior parte degli anziani in Italia non vive da solo ma vive insieme alle famiglie con i nipoti con i figli e quindi che cosa facciamo lo chiudiamo in una stanza un anziano è ovvio che nei pasti nella cura di un nipote nell'incontro dentro la casa è ovvio che e la maggior parte degli anziani che si contagiano è bene che ci diciamo si contagiano in casa o nelle strutture sanitarie perché gli anziani si sono contagiati non si sono contagiati in discoteca o nello stabilimento a baleare ma si sono per citare due esempi che faceva che faceva Antonio ma si sono contagiati o in casa o nell'RSA o in ospedale quindi ma allo stesso tempo gli anziani hanno bisogno di 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 cura molto più costantemente delle persone di un'età di un'anagrafe più basse e chi li cura non li curiamo non quindi diciamo è una è una soluzione che dal punto di vista accademico può avere una sua razio ma che dal punto di vista etico e insieme paradossalmente dal punto di vista pratico è sostanzialmente irrealizzabile le tante realtà che dovranno stare chiusi a lungo fra queste ci sono le discoteche e gli stabilimenti balneari che hanno ricevuto forse qualche qualche favore di troppo durante questa estate io più che e comunque ci sono due lobby potenti anche in questa casa tanto ci diciamo le cose come stanno in questa conversazione Antonio quello che io ho visto in questi mesi è più che altro un atteggiamento assolutamente arci italiano per il quale durante il lockdown oddio è la fine del mondo non ci basta le terapie intensive dobbiamo fare terapie intensive appena arrivati a giugno il covid il covid non esiste più il problema che ci abbiamo alle spalle addirittura sono stati messi sotto accusa le regioni o le realtà che avevano provveduto a fare in alcuni casi si è detto troppe terapie intensive è successo con Bertolaso a Milano che è stato messo sotto accusa per aver fatto a San Raffaele una struttura che adesso torna preziosissima e si è detto no ma ne abbiamo fatte troppe terapie intensive soldi buttati oggi di nuovo e questo è un atteggiamento tutto italiano che dobbiamo dismettere una volta per tutte però anche qui anche di fronte a questa realtà le distinguo perché i balneari è un problema di questo paese prima o poi dovremmo affrontarlo sono realtà molto variegate perché c'è il tuiga e c'è la piccola la piccola gestione familiare lo stabilimento a cattolica però diciamo eh è una è una delle realtà italiane che non funziona sono concessioni ventennali rinnovate senza gara da da anni e decenni che portano le casse dello Stato cifre irrisorie ridicole prima o poi bisognerà discutere anche di questo eh ci sono stabilimenti balneari che eh pagano allo Stato quello che incassano in una giornata di lavoro e questo siccome non succede in altri comparti è vergognoso che succederli anche lì sulle discoteche e e chiudo su questo che sono alcune delle realtà che veramente non non sappiamo quando potranno riaprire anche lì però siccome c'è gente che ci lavora è legittimo che ci si lavori perché non è certo un settore illegale l'importante che lo stadio lo Stato dia garanzie e dia una prospettiva minima perché questo è il tema quando tu c'hai persone che lavorano in tanti comparti e che non ricevono una cassa integrazione da aprile e da maggio è quello il paese non non ti capisce più non ti capisce per non capirti se non sei in grado di far fronte mi taccio e vi ringrazio per questo piacevole appuntamento allora io ringrazio tutti a nome dell'ottangolo e do appuntamento alla settimana prossima in cui cominceremo delle interviste con esercenti e con con professionisti e avremo come al solito alla fine della settimana un'intervista con mondo della politica grazie a tutti e buona teniamoci stretti che il vento è stretti nei limiti nei limiti dell'intanziamento l'idealmente ciao a tutti ciao i gravi grazie grazie ok chiudo la registrazione tac grazie a tutti Grazie a tutti